Domani presso l'auditorium della Regione Campania all'isola C3 del centro direzionale prendono il via i corsi di formazione per dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici addetti al Servizio Nazionale di Protezione Civile e degli istituti scolastici sul rischio bradisismico e vulcani con i campi flegrei. Sono ben otto gli argomenti sui quali si concentreranno i corsi, il Servizio Nazionale della Protezione Civile e Sistema Regionale, gli aspetti scientifici legati alla fenomenologia vulcanica, il Piano Nazionale Campi Flegrei per il rischio vulcanico, le fasi operative per la pianificazione del rischio vulcanico, la pianificazione comunale per il rischio vulcanico, il DL140, il Piano della Comunicazione e Comportamenti Corretti, il Piano Speditivo di Emergenza per il rischio bradisismo. Con questi corsi si mira a dare una formazione specialistica al personale.